andiamo a scarmare guarda la frutta ma che bella è un altro dufoile anche lì è un piccolino ma non lo toccare guardalo soltanto però stai bravo te perchè lui lecca tutto questo qua è capobranco è un dominante ahia allora che l'hai accettato guarda guarda lui si è già sottomesso allora andai avvicinato Felice vieni qua